La tutela dell'ambiente impone rigorose politiche di controllo del procedimento di smaltimento dei rifiuti, perché a interesse di tutti non essere esposti ai rischi che possono nuocere alla salute. Per questo una recente normativa ha introdotto un nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti, denominato Sistri, il cui obiettivo è anche quello di ridurre e semplificare gli adempimenti amministrativi attualmente in essere. Per le aziende e gli enti tenuti a queste norme c'è una scadenza il 28 febbraio prossimo. Sentiamo. Loris Rui, responsabile del settore ambiente di Asso, Artigiani. Allora una nuova normativa in materia di rifiuti. Chi riguarda innanzitutto? Soprattutto in questa fase riguardano i produttori di rifiuti pericolosi, i gestori di rifiuti, quindi i trasportatori, i recuperatori e gli smaltitori di rifiuti e coloro che trasportano i propri rifiuti pericolosi. Sono invece esclusi, in quanto possono comunque aderire in forma volontaria, le aziende che producono rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti. Di cosa si tratta esattamente? È un nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti, quindi una cosa veramente innovativa di cui il nostro Paese ha deciso di dotarsi. In pratica si userà un nuovo programma informatizzato gestito dal Ministero dell'Ambiente, cui tutte le aziende, sia i produttori che i trasportatori, potranno accedere mediante un dispositivo, una chiavetta USB, in cui potranno inserire i dati di produzione e di smaltimento dei rifiuti. Praticamente i rifiuti verranno controllati dalla fase della produzione fino allo smaltimento finale in discarica o negli impianti di depurazione. Sostanzialmente questo si configura come un grosso intervento contro le eco-mafie. Si vuole cercare di combattere gli smaltimenti illeciti dei rifiuti. Certamente vi è un immediato vantaggio, che è quello della eliminazione del registro dei rifiuti, della denuncia annuale dei rifiuti e del formulario per il trasporto ai rifiuti, ovvero tutta quella documentazione cartacea che veniva oggi usata dalle aziende, che tanto fastidio dava loro, per poter gestire i rifiuti prodotti e smaltiti. Inoltre va anche detto che c'è, a mio parere, un notevole vantaggio per quanto riguarda il risparmio del tempo per la gestione dei rifiuti dal punto di vista amministrativo. Avete delle perplessità nell'applicazione di queste nuove norme? Sì, ci sono alcuni aspetti che non sono ancora ben chiari e sul quale stiamo approfondendo insieme alla Confartigianato nazionale, perché è una normativa complessa nella sua organizzazione e nella sua struttura. Riteniamo nei prossimi giorni di arrivare a chiarirli comunque. Una perplessità invece molto forte l'abbiamo per il contributo annuale che viene richiesto a chi aderisce peraltro obbligatoriamente a questo sistema. Riteniamo che il contributo richiesto da ogni singola azienda possa essere ridotto e su questa cosa la Confartigianato è fortemente attiva proprio nei confronti del Ministero per cercare di rivedere appunto il costo che verrebbe applicato o il contributo che viene chiesto alle aziende. Le aziende a chi possono fare riferimento per avere informazioni o comunque per poter accedere a questa nuova tipologia di denuncia dei rifiuti? L'associazione in questo momento è pronta a poter dare una mano alle aziende per aderire a questo sistema e per aiutarle anche nella gestione futuro di questo sistema. Devo ricordare che solo le associazioni come la nostra o le aziende direttamente possono gestire i dati da inserire in questo programma informatizzato di cui parlavo prima proprio perché è previsto dalla normativa vigente.